what the hell guys guardiamo un attimo questa cosa qua are you ready here we go what the hell il bello del piloto automatico ragazzi è messo lì boom esploso speravo che continua a salire continuerà a salire i won't to be honest i don't know ma però mi sto rilassando faccio vedere un attimo margherita cocktail anyway riguardiamo abbiamo fatto quasi un 5 per cento fantastico sono contento che è entrato in quelle posizioni ragazzi io non sono entrato come dicevo video precedente tanto posizione aperte speriamo che incominci la salita e tocchi il massimo storio così fuck off fuck this thing and what the ciao